Ciao a tutti per la prova prodotto di oggi un altro prodotto della milka dopo aver fatto la recensione dei ciocomu mi avete chiesto di provare i prodotti in quanto la milka effettivamente si è lanciata in tantissimi nuovi prodotti dai pop corn caramellate al cioccolato a anche barrette nuove tipo questa qui che ho trovato io che è milka e oreo sono contenta di averla trovata perché era un po che la cercavo soprattutto dopo aver fatto la torta gigante oreo ero curiosa di provarla tra l'altro se non avete visto la torta gigante cliccando qui trovate il video ero curiosa di provarla perché voi mi avevate chiesto claudia assaggia questi oreo facciamo una torta gigante io non avevo mai assaggiato prima di fare la torta gigante per quello ci ho messo un po di tempo a realizzarla e mi sono piaciuti molto mi piace soprattutto quel retro gusto un po salato che ha il biscotto quindi oggi in questa barretta mi aspetto lo stesso retro gusto non so se lo sento solo io questo sapore un po salato fatemi sapere se lo sentite anche voi allora quindi il milka oreo vi vado a leggere le calorie questa barretta è da 41 grammi e a 225 calorie e vediamo un po gli ingredienti cioccolato al latte con biscotti al cacao in pezzi gli ingredienti sono zucchero grassi vegetali di palma di palmisto questi qui non ci piacciono tanto farina di frumento burro di cacao siero di latte in polvere latte scremato in polvere pasta di cacao grasso del latte latte in polvere ricco di materia grassa cacao magro in polvere olio di colza anche questo non ci piace tanto sciroppo di glucosio fruttosio amido di frumento emulsionanti pasta di nocciole agenti lievitanti gli agenti lievitanti saranno del biscotto credo la prima volta che li trovi in una barretta di cioccolato penso di sì sale c'è il sale l'ho trovato e aroma può contenere altra frutta a guscio ok è arrivato il momento di vedere innanzitutto l'aspetto voglio proprio vedere se ci sono i pezzettini di biscotto come si vedono qui e poi anche il sapore che non è da sottovalutare allora questo qui è l'aspetto della barretta vado a tagliarlo così da farvi vedere sembra biscottoso allora ecco qui è molto biscottoso forse rispetto all'immagine è molto più biscottoso sia da questo lato che da quest'altro si vede più componente di biscotto che di parte bianca vado ad assaggiare allora mi piace molto mi sarebbe piaciuto si sentisse un pochino pochino in più la parte della crema che forse si sente meno rispetto al biscotto mentre il biscotto con il suo retro gusto un pochino pochino salato si sente quindi sono contenta allora andiamo a dare un po di voti quindi a questa barretta pagata 80 centesimi credo che per essere 41 grammi non sia proprio così economica quindi per quello che riguarda la qualità prezzo soprattutto per gli ingredienti che come dite voi non ci piacciono tantissimo forse il prezzo in questo senso lo trovo un pochino elevato quindi darei una sufficienza per quello che riguarda il sapore invece sono contenta perché trovo saporita si sente bene il sapore del biscotto e soprattutto anche l'aspetto mi ha reso contenta perché ci sono un sacco di pesettini di biscotto anche se questo forse avrebbe dovuto far abbassare il prezzo perché meno cioccolato prezzo più basso non lo so però comunque per quello che riguarda il prodotto in generale sono contenta soprattutto del sapore quindi il mio voto generale per questo prodotto è un 8 e mezzo mi è piaciuto molto non ho valutato tanto appunto il prezzo gli ingredienti ma fatemi sapere anche voi la vostra opinione un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima video recensione sabato ricetta il martedì ciao 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 ciao